Mi sono sposato con il Melinda in Brasile e noi sempre siamo venuti di famiglie cattoliche, tanto la sua come la mia. E così penso che la nostra testimonianza venga dalla nostra formazione. Più di altro, dal 1993 siamo ingressi al movimento Equipe Notre Dame in Brasile e da quel tempo finora sempre abbiamo migliorato il nostro rapporto e la nostra fede. Noi abbiamo l'Equipe Notre Dame che è un movimento della Chiesa che lavora con giovani e principalmente con coppie cristiane, coppie matrimoni. Lavoriamo quasi tutti i nostri, lavorano nei pastorali familiari, lavoriamo con i fidanzati, lavoriamo con le coppie in seconda unione e sempre cerchiamo di mostrargli che il matrimonio è veramente un sacramento. E speriamo anche noi che questo sinodo sia un altro passo nell'aggiornamento, nella modernità della Chiesa. Sempre non perdendo le radici con gli Evangeli, con Gesù Cristo, ma sempre camminando in aggiornamento. Grazie. 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 Grazie.